Saluto a tutti e bentornati a Fisicamente Aula Studio. Oggi vi volevo fare un video un po' strano, perché mi è venuta in mente una domanda un po' intrigante a cui ho voluto dare una risposta e adesso volevo condividerla con voi. Se lasciamo cadere un corpo in caduta libera dalla superficie della Terra verso il centro della Terra, quanto tempo ci metterebbe questo corpo a raggiungere proprio il centro della Terra? Quindi quanto sarebbe il tempo di caduta di un tale oggetto? Questa domanda mi è venuta in mente perché oggi stavo ascoltando un po' di mitologia greca e si parlava del Tartaro, che era un pozzo così profondo che un incudine di ferro ci metteva nove giorni e nove notti a raggiungere il fondo e quindi mi sono chiesto ma supponendo di poter fare un tale pozzo fino al centro della Terra, quanto tempo ci metterebbe? Allora, per rispondere a questa domanda buttiamo giù un paio di conti. Iniziamo con il sistema di riferimento. Allora, supponiamo che il centro della Terra sia questo punto C, il raggio della Terra ci porta dal centro C fino alla superficie della Terra e questo è questo R+, come si indica il simbolo della Terra, è questo più con il tondo intorno. E poi possiamo anche dire la seguente cosa. Se chiamiamo h la distanza che il punto, questo oggetto, ha percorso fino ad un determinato istante durante la sua caduta, allora possiamo chiamare r piccolo la distanza che gli manca ancora da percorrere per arrivare fino al centro della Terra. E dato che h più r deve fare la distanza tra il centro della Terra e la superficie, è chiaro che h deve essere uguale a questo R grande meno l'r piccolo, ossia il pezzo di strada che gli manca da fare. Quindi questa è, diciamo, la prima situazione. Partiamo adesso definendo quelle che in fisica sono chiamate le condizioni iniziali. Allora il mio corpo parte sulla superficie della Terra, quindi il raggio, quindi questo raggio, è esattamente grande quanto R grande, per questo che il raggio di partenza è proprio R grande, il raggio della Terra, parte da fermo, quindi la sua velocità è zero, e la sua accelerazione è proprio l'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre, quello che è chiamato G. Queste sono le condizioni iniziali. Andiamo a vedere qual è la fisica che c'è dietro. Ma è un corpo che sta cadendo, e c'è un'unica forza che sta agendo su di lui, che è la forza gravitazionale. Scriviamo il secondo principio della dinamica, F uguale MA. Ci sono due termini, F ed M per A. Andiamo a vedere prima questo F. Abbiamo detto che sta agendo solo la forza gravitazionale. Dobbiamo a questo punto calcolare la forza gravitazionale che agisce sul mio corpo, mentre il mio corpo si sta trovando proprio nel punto R. Un R, un R qualsiasi. E a questo punto vi dico subito che, senza farla troppo lunga, Il signor Eulero ci dice che, se per esempio il corpo è arrivato fino a questo punto, allora sarà solo la massa della Terra all'interno di questa sfera che avrà una trazione gravitazionale su questo punto. Tutta la Terra che è in questo guscio, diciamo, quindi dalla superficie fino a questa sfera immaginaria di raggio R, non ha più alcun contributo alla gravità che questo corpo, una volta raggiunto questo punto, sta sentendo. Quindi, la forza di gravità la scrivo come ci ha insegnato Newton, la costante di gravitazione universale, per la massa del mio corpo, moltiplicata la massa di Terra all'interno di questa sfera E di raggio R, ed è per questo che questa è una massa che cambia ed è in funzione del raggio R. E poi dividiamo, come sempre, per il raggio al quadrato, proprio perché la distanza tra il centro di questa sfera e il mio corpo è proprio il raggio. Se adesso andiamo a sviluppare questo affare qua, quant'è la massa della Terra racchiusa nel raggio R? Ma non è altro che il volume della sfera, 4 terzi pi greco R al cubo, moltiplicato per, supponiamo, prendiamo la densità media della Terra, ebbene, questa è la massa che ha la sfera di raggio R. L'ho sostituita qua dentro, quindi mi ritrovo Gm diviso R quadro per questa roba qua. Si può semplificare l'R quadro e l'R cubo, e quello che mi rimane non è altro che la massa del mio corpo. Per questo affare qui, che a questo punto non sono altro che numeri, perché 4 terzi pi greco sono dei numeri, G è una costante, la densità media della Terra è un parametro, moltiplicato per il raggio, da solo il raggio. Perfetto. E siamo a posto con questo termine. Andiamo a vedere l'altro adesso. N per A. Benissimo. Che cos'è l'accelerazione? Perdonate un po' di matematica di quinta al liceo, L'accelerazione non è altro che la derivata seconda di H, questa altezza che lui sta percorrendo mentre sta cadendo, proprio perché è la derivata seconda dello spostamento. Ma grazie a questa regola che abbiamo scritto qua, possiamo riscrivere questa derivata seconda dell'altezza come meno la derivata seconda del raggio. Ok? Quindi M A mi diventa meno M per la derivata seconda del raggio. A questo punto ricordiamoci che per il secondo principio della dinamica questi due affari devono essere uguali. E allora cosa succede? Succede innanzitutto che M e M vanno via. E mi rimane questa formula qua. Da una parte ho messo la derivata seconda del raggio, poi c'ho meno una costante che mi moltiplica il raggio. Adesso qua utilizzo un piccolo trucco perché quando io ho visto questa equazione mi è venuto subito in mente che questa è la stessa equazione che mi descrive il comportamento di un peso attaccato a una molla. Immaginiamo di avere un peso di massa M attaccato a una molla di costante elastica K e l'equazione è questa. Ma vedete che se io sostituisco K su M con questo troiaio qua, ma l'equazione è esattamente la stessa. Invece di R c'ho X ma c'ho sempre derivata seconda meno uguale meno una costante per R e qua c'ho X. Ma è la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa. Quindi posso paro paro prendermi le soluzioni, ossia quell'equazione che mi dice come sta sgorlando su e giù questa massa attaccata alla molla di costante K, ci metto dentro le mie condizioni iniziali e viene fuori questa soluzione che non è altro che mi sta dicendo che il mio raggio, meglio, diciamo, questa coordinata radiale in funzione del tempo che sta seguendo il mio corpo è uguale al raggio della Terra che moltiplica il coseno di questo affare qua per il tempo. Senza andare troppo in dettaglio di questi coseni che non si capisce niente, Cosa vuol dire? Vuol dire che in funzione del tempo il mio oggetto parte a una distanza proprio il raggio della Terra e poi inizierà ad oscillare, andrà su e giù. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo affare inizia a cadere, accelera, 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 arriva qui, passa, continua ad andare avanti, arriva fin qua, poi si ferma e poi rincomincia, ripassa, si ferma, ripassa, si ferma. Perché questo? Perché è come se fosse attaccato a una molla, il centro sarebbe la sua posizione di equilibrio, e immaginate un peso attaccato a una molla che va su e giù. Perché è così? Per due motivi. Primo, perché l'equazione è esattamente la stessa, ed è per questo che posso immaginarlo come una molla. E secondo, perché io quando sono qui, ho tutta la trazione gravitazionale che mi spinge verso il basso, quando sono al centro della Terra, io qua non ho più assolutamente nessuna trazione gravitazionale, perché sono proprio nel centro della Terra, e quindi il mio corpo va via dritto. Quando ho passato il centro della Terra, allora piano piano la trazione di gravità inizia a tirare verso l'alto. Quando sono qui, ho il massimo della trazione gravitazionale, verso l'alto. E quanto vale? Esattamente vale quanto G, esattamente il valore che avevo qua, solo col segno negativo, perché adesso sono sotto e mi sta tirando in su. E il ciclo si ripete. A questo punto siamo quasi arrivati, perché? Perché a questo punto noi sappiamo che nel fare questo movimento, questo è chiamato il periodo dell'oscillazione. Il periodo dell'oscillazione io la posso calcolare, senza entrare troppo in dettaglio qua, se volete è matematica proprio da quinta al liceo, perché è il moto di un oggetto appeso alla molla, però quello che mi interessa è cosa? Fino a qua, perché io voglio sapere quanto ci mette il corpo ad andare dalla superficie della Terra fino al centro della Terra, ossia quanto ci mette ad andare da qua a qua. E questo è un quarto di tutto il periodo. Se facciamo tutti i conti fino in fondo, ci viene fuori che il tempo di caduta è praticamente 21 minuti. Quindi se voi andate a far cadere un corpo in caduta libera fino al centro della Terra, questo ci mette 21 minuti. Ovviamente trascurando qualsiasi tipo di attrito aerodinamico e via dicendo. Supponendo che la Terra sia sferica, supponendo che la densità della Terra sia uniforme dappertutto, e supponendo di poter scavare un pozzo fino al centro della Terra. Benissimo, questo era quello che vi volevo raccontare. Ovviamente si possono fare mille altre estensioni, per esempio calcolare la velocità con cui questo oggetto arriverebbe al centro della Terra, quanto tempo ci metterebbe se ci fosse trite aerodinamico, ma insomma, ci possono essere altri video. Se avete voglia di sapere anche queste storie, o provate da soli, oppure lo faremo insieme in un altro video. Se avete domande, come sempre, non esitate a lasciarmi un commento, e alla prossima! Grazie! Grazie!